gentili amiche e amici che ci seguite da casa un caro saluto al vostro marco pareti per rtn radio e about umbria siamo con la nostra rubrica donne che si raccontano oggi una donna molto speciale molto particolare per sia per il lavoro che esercita ma non tanto quale la tipologia di lavoro ma dove si esercita ed è molto orientata agli altri molto orientata al sociale e ovviamente in una professione molto delicata per tante persone che possono che possono avere aiuto bisogno di un professionista e lei appunto porge il suo aiuto proprio per risolvere quando le persone si trovano a dei bivi proprio della vita stessa sto parlando con francesca valentini psicologa ciao francesca ciao marco ciao grazie per per questa opportunità grazie davvero grazie a te che sei qui con noi a raccontarci un po qualcosa di te del tuo lavoro sì io ti ringrazio per per quello insomma che hai detto io non non mi ritengo una donna speciale mi ritengo semplicemente una donna che ha una una passione una vocazione ormai da oltre 17 anni seguo con con grande passione il mio lavoro di psicoterapeuta di psicologa e il mio lavoro è sempre stato molto orientato nel verso i ragazzi e le ragazze con problematiche di dipendenza quando parliamo di dipendenza non parliamo soltanto di dipendenza da sostanze perché ormai siamo nel nel 2022 nel 2022 non non possiamo parlare soltanto di dipendenza da sostanze ma parliamo anche di dipendenze comportamentali parliamo di di dipendenza da internet da gioco d'azzardo e devo dire che la pandemia non non ci ha aiutato in tutto questo lo faccio con passione perché io credo che il legame che che si crei con ragazzi che ragazzi ragazzi ragazze che mostrano questo tipo di disagio sia un legame particolare perché si condivide tanto si condividono vissuti storie di vita soprattutto con con le donne soprattutto con con le ragazze che hanno problematiche di dipendenza si crea un rapporto particolare speciale perché perché si tratta anche di donne che in molti casi hanno avuto anche dei vissuti di violenza traumatici e che quindi in un certo senso il il trauma è stata purtroppo la via che le ha condotte magari in tanti casi alla dipendenza in modo che così facciamo un passo per vuote molto già cari amici e amici di about umbria di rtn radio anche ben compreso la passione che mette francesca nel suo lavoro e per quello che può donare agli altri aiutandole ovviamente in tutto quello nel cappello che ha fatto ovviamente francesca si rivolge e francesca ti rivolgi facendo comprendere bene il tuo lavoro di psicologa psicoterapeuta ma sei anche una collaboratrice della comunità incontro che si trova nel comune di amelia fondata da don piero gelmini a suo tempo che è diventata veramente un eccellenza nel recupero delle persone e appunto dalle dipendenze qualche anno fa se ci vuoi raccontare anche come don pierino aveva iniziato questa sua missione incontrando un ragazzo che ha chiesto aiuto per strada e da quel momento è scattato una scintilla che ha dato luce a questa comunità che veramente è uno scrigno pieno di speranze spiena di futuro pieno di risorse e soprattutto di rinascite e di cambiamenti con un diciamo con delle sirene riprendendo un po ulisse che ti davano e ti continuano a dare distribuzioni di sogni o di appagamenti che passano in poco tempo ma che possono significare la vita in modo diametramente opposta alla serenità a quello che può essere invece dei turbamenti che poi vai a cercare delle cose da qualche altra parte quindi la comunità incontro senza dubbio è una tappa fondamentale è un oasi è un ancora è una boa di salvezza che ha rappresentato per tanti giovani e tu lì sei una delle persone che tutti i giorni spessissimo sei vicino a questi a questi ragazzi sì la comunità incontro ad oggi rappresenta un con eccellenza nel nel campo delle dipendenze non abbiamo soltanto ad oggi ragazze e ragazzi con con problematiche di dipendenza ma ci occupiamo di ragazze e ragazzi con problematiche anche psichiatri quindi si tentano di riabilitare ragazzi anche in doppia diagnosi la comunità incontro per me oltre che tutta la mia esperienza precedente ad oggi rappresenta infatti mi fa piacere che tu abbia parlato della comunità incontro perché per me ad oggi rappresenta forse una delle delle parti della mia vita più importanti perché comunque rappresenta un po la mia seconda famiglia un pierino è stato probabilmente uno degli uomini più carismatici che siano esistiti e don pierino ebbe la grande la grande idea di capire che fondamentalmente la dipendenza andava affrontata in un altro modo la comunità incontro nasce quando don pierino ebbe un incontro con alfredo alfredo era un ragazzo tossico dipendente che chiese a don pierino si prende una mano gli chiese gli disse e allora don pierino gli offre dei soldi ma realmente alfredo non voleva dei soldi voleva essere aiutato aiutato in un altro modo quindi don pierino lo portò a casa con in sé e realmente questo non voglio dilungarmi troppo però questo rappresenta l'inizio solo ed esclusivamente l'inizio di quella che poi è stata la missione di don pierino perché da lì don pierino man mano arrivò d'amelia e da lì getto le basi per quella che ad oggi conosciamo appunto come comunità incontro fu una grande fatica per lui fu una grande fatica per i grandi ragazzi per i ragazzi che comunque lo seguivano in quel momento lì ad amelia non c'era nulla venne rinominata e ridenominata la valle della speranza perché la speranza per tutti coloro che si erano persi si erano persi nel nella droga come si chiamava all'epoca un pierino ci ha lasciato e ci ha tramandato tantissime tantissime tantissimi dettami tantissime regole una di quelle più belle una delle tante che mi resta sempre nel cuore ogni volta che l'ascolto è salvando una sola persona salviamo una generazione quindi credo che questo sia un po la missione della comunità salvando una sola persona dobbiamo abbiamo il dovere il diritto di salvare un'intera generazione e non voglio dilungarmi ulteriormente però è unita incontro nella persona del dottor nicolasi nella responsabile dell'equip la dottoressa fontanella di tutto il direttivo della della comunità ogni giorno portano avanti una missione una missione importante che non è solo quella di riabilitare i ragazzi con dipendenza ma tentare di di ricreare attorno a quei ragazzi quel calore quella quella famiglia quella fiducia che forse per un periodo di tempo non hanno non hanno avuto intorno a sé o non hanno voluto avere diciamo che questo è uno dei primi obiettivi che la comunità incontro a io ti ringrazio nuovamente per aver dato spazio a questa grande realtà che secondo me è una delle più grandi realtà e più importanti in realtà che abbiamo in italia e non solo quindi ti ringrazio ma grazie grazie a te per tutto quello che ci stai raccontando soprattutto per il contributo fattivo che dai ogni giorno francesca e quindi veramente un esempio da seguire ma passiamo un po indietro qual è stata la motivazione di diventare psicologa e seguire certi percorsi che tu hai fatto innanzitutto tu arrivi dall'abruzzo hai studiato ed hai trovato appunto psicologia ed hai trovato terreno per portare e fare la tua professione appunto nelle terre d'umbria sì io sono circa 45 anni che sono faccio parte di questa grande famiglia come collaboratrice della comunità incontro prima di questo e oltre questo porto avanti insomma la mia attività di terapeuta di psicoterapeuta e di psicologa ma realmente questa è una domanda che un pochino mi hanno fatto nel corso degli anni soprattutto quando ero più giovane come mai proprio la psicologa e come mai perché nelle dipendenze ad oggi so questa risposta fino a qualche anno fa probabilmente è stato un farmi un po trasportare da da un provare da un tentare che in fondo quando si ha vent'anni non si è poi così tanto sicuri della strada che si vuole prendere e io ero molto molto predisposta nel voler avere comunicazione con gli altri nell'aiutare gli altri quindi un pochino questa mia predisposizione mi ha portato a scegliere come facoltà psicologia da lì pian piano mi sono accorta che effettivamente più che una scelta universitaria era diventata man mano una passione perché anche un po' per merito dei tirocini che si fanno mi sono avvicinata a tante realtà quella psichiatrica quella dei bambini insomma ho conosciuto un po' di realtà però quella che poi mi è rimasta nel cuore fino ad oggi e che resterà nel cuore fino a che farò questa professione spero per tutta la mia vita è quella del mondo delle dipendenze perché perché c'è c'è sofferenza perché a differenza di quello che si pensava fino a qualche anno fa rispetto a le persone con dipendenza ad oggi ci siamo battuti tantissimo per far sì come per le persone con problematiche psichiatriche far sì che venissero un po' aboliti gli stigmi sociali gli etichettamenti ad oggi un pochino ci stiamo lavorando su questo a me piacerebbe tantissimo che le persone non venissero più giudicate per il loro passato per il loro stato per il proprio disagio per un disagio emotivo per un disagio psichiatrico ma venissero apprezzate e per quello che ad oggi dimostrano spesso ho sentito nella mia vita dire vabbè ma tanto quello è un drogato non si riprenderà mai non è vero non è così non è assolutamente così e noi io ho potuto vederlo nella mia esperienza personale potuto vedere che nulla avviene per caso nulla avviene nulla nessuno decide di avvicinarsi a dei comportamenti di dipendenza soltanto solo ed esclusivamente per provare o per moda in tanti casi abbiamo potuto riscontrare o potuto riscontrare nella mia esperienza che dietro ci può essere un disagio di qualunque tipo anche semplicemente un disagio personale quindi perché dover continuare a bere questi questi atteggiamenti stigmatizzanti edichettanti nei confronti delle persone che probabilmente per un periodo della loro vita hanno sbagliato e quindi forse anche un po questo è stato il motivo no battermi un pochino forse anche con presunzione probabilmente però battermi per far sì che tutto questo potesse pian piano nel mio piccolo piccolissimo un po scomparire almeno e le persone che mi ruotavano attorno io ho influenzato molto su questo tutti i miei familiari le persone che mi conoscono e che magari facevano questi questi discorsi e quindi ho cercato un po di fare la paladina tra virgolette rispetto al far capire agli altri che siamo tutti esseri umani e ognuno di noi sbaglia a modo proprio però ognuno di noi ha la capacità la forza e il coraggio di rialzarsi questo è un pochino Marco sono parole con questo molto molto profonde molto profonde toccanti anche perché la motivazione è senza dubbio elevata ma in certe situazioni ci vuole anche la determinazione per andare avanti soprattutto quando si vedono che le persone diciamo qualche anno fa o come è nata la comunità o come sono nate queste problematiche erano soprattutto dei giovani ancora oggi ci sono dei giovani ma ci sono anche persone adulte persone di età che arrivano veramente a degli anni importanti dovrebbero avere un'esperienza le loro mani dovrebbero carezzare i propri nipoti dovrebbero carezzare i propri figli dovrebbero carezzare e dare saggezza in realtà queste persone hanno bisogno di saggezza hanno bisogno di esperienza hanno bisogno di esempi positivi cosa succede in questa società moderna dove le slot machine il gioco in genere, l'alcol che sempre sono esistite ma oggi hanno una percentuale ancora più elevata rispetto al passato? Sì, ad oggi come dicevamo anche prima effettivamente c'è stato un aumento esponenziale di tutto questo rispetto al passato diciamo che ad oggi c'è anche forse un più facile accesso a tutto questo e devo dire che la pandemia non ha aiutato assolutamente soprattutto nella dipendenza per quanto riguarda il gioco d'azzardo il gioco d'azzardo patologico effettivamente io credo che l'aspetto emotivo ad oggi sia uno degli elementi più importanti l'aspetto familiare, la comunicazione, la condivisione queste sono tutte parole a me particolarmente care perché credo che ognuno di noi viva dei momenti di disagio dei momenti un po' più up dei momenti in cui si sente un po' più giù io credo che se abbiamo la capacità di condividere di comunicare con le persone che ci sono attorno comunque di avere la forza, di chiedere aiuto io credo che anche il nostro disagio vada a diminuire io credo che si tratti di coraggio un pochino nel senso lo scegliere la sostanza lo scegliere comportamenti di dipendenza lo scegliere comportamenti che sappiamo benissimo che non ci fanno bene, non ci fanno stare bene io credo che ad oggi sia la scelta più facile sia quell'atteggiamento, quel comportamento di fuga che ci fa dimenticare per qualche minuto ci fa allontanare per un periodo di tempo dai nostri reali problemi, dalla quotidianità da quello che non tolleriamo ad oggi c'è una scarsa tolleranza alle frustrazioni e allo stress le giovani generazioni io mi rendo conto che sono dei giovani molto fragili da questo punto di vista hanno una fragilità rispetto proprio alla tolleranza delle frustrazioni, dello stress il timore di ricevere un no quindi io credo che forse anche un po' questo influenzi questo continuo avvicinarci a comportamenti non funzionali a comportamenti che non ci fanno bene che non ci fanno stare bene che lì per lì pensiamo che ci aiutino ma poi realmente ci fanno sprofondare in un vortice e in un fosso da cui è difficile comunque risalire ad oggi soprattutto nelle nuove generazioni è quasi divenuta la normalità in alcuni contesti per socializzare quindi il bere una cosa insieme o altro è diventata quasi la normalità quindi io credo che bisognerebbe lavorare a monte rispetto a questo quindi rispetto al promuovere stili di vita un po' più sani tornare a quella socialità sana quella condivisione di anche ad esempio a livello sportivo il ricondividere il vivere la strada il vivere gli altri il vivere la socialità in maniera diversa non per forza dobbiamo uscire perché chissà che dobbiamo fare ma semplicemente per il piacere di stare insieme quindi diciamo che sono stata molto generalista rispetto a tutto questo però io credo che sintetizzare quello che tu hai tirato fuori come argomento in poche parole sia molto difficile quindi io mi sento di soltanto inviare questi input in questo momento perché il discorso sarebbe molto molto più lungo rispetto anche a quello che fondamentalmente i nostri ragazzi i nostri giovani sono chiamati ad oggi sono bombardati continuamente da richieste richieste continue il dover essere all'altezza all'altezza delle situazioni la paura di sbagliare che forse fino a qualche anno fa non c'erano non c'erano queste grandi pretese nei confronti dei giovani ad oggi magari si pretende che i giovani possano eccellere in tutto quello che fanno e quindi io credo che anche sottoporre i ragazzi a questo stress non sia così poi costruttivo perché ognuno di noi credo che debba scegliere la prova vocazione quindi forse anche questo non aiuta quindi diciamo ecco un pochino questo è brevemente quello che credo quello che penso però ripeto è un discorso molto molto lungo che ci porterebbe credo tanto tempo grazie Valentina è sempre parlare con te è sempre foriero di di riflessione in maniera concreta istruzioni per l'uso se vogliamo chiamarle così di una famiglia che avesse all'interno è un componente diciamo dedito a diciamo a una dipendenza tra queste che ci hai detto ci sono dei segnali particolari che si possono ravvisare ci sono dei momenti che possono in qualche modo suonare un campanello d'allarme per poter di solito uno interviene quando ormai le cose sono troppo tardi o già le cose sono successe secondo te ci potresti dare qualche consiglio proprio per prevenire certe dipendenze io più che dare consigli non mi sento di dare consigli mi sento più di dire ai genitori alle persone che hanno a che fare con i giovani con gli adolescenti mi sento di dire una cosa che per me è molto importante e che noto da anni parliamo comunichiamo condividiamo la comunicazione è una delle cose più difficili quando vediamo un figlio che rientra a casa e ci evita quando vediamo un figlio che torna a casa e va direttamente in camera quando vediamo che cerca momenti di isolamento ha comportamenti particolari magari vediamo un ragazzo che fino a qualche tempo prima andava molto bene ad esempio a scuola e man mano inizia ad avere un rendimento scolastico più basso io faccio degli esempi molto molto generali osserviamoli i nostri figli osserviamo i ragazzi che abbiamo intorno osserviamoli cerchiamo di capire di comprendere però ricordiamoci una cosa non li giudichiamo non stiamo lì ad opprimerli e a doverci far dire per forza che cosa hanno fatto sia genitori sì non sia amici quindi probabilmente i ragazzi non verranno mai a ovviamente dipende dai rapporti che si hanno con i propri genitori però certo parlare con un genitore non è mai così facile però io credo che all'interno di ogni famiglia questa sia una delle cose che debba essere riscoperta la comunicazione spesso in famiglia siamo troppo distratti tutti quanti anch'io per prima magari quando siamo a tavola abbiamo il cellulare pensiamo ai social e quindi magari evitiamo ci rendiamo conto che arriviamo a fine cena e non abbiamo neanche scambiato una parola ad esempio perché siamo stati tutto il tempo concentrati sul telefono sui social su messaggi chat e quant'altro quindi io credo che forse uno dei primi step è una delle prime cose che si potrebbero fare si potrebbe fare è proprio il tornare un pochino a una sana comunicazione una comunicazione un po' più emotiva ad oggi i ragazzi mi sono resa conto che hanno un po' paura delle emozioni non po' paura di esprimere quello che realmente pensano qualche volta mi è capitato che qualche ragazzo magari per timidezza di persona non riuscisse a parlare poi magari davanti ad un ad un ad un display di un telefono davanti a un pc riuscisse ad esprimere in maniera positiva o negativa il proprio stato d'animo quindi bisognerebbe tornare un pochino a un tipo di comunicazione diversa non preoccuparci di quello che gli altri possono non possono dirci ci preoccupiamo tanto del giudizio io credo che questa sia una delle altre piaghe tra virgolette avevo tanta paura del giudizio perché effettivamente siamo in un momento storico abbastanza giudicante una cosa che è sempre più in aumento è il bullismo il cyberbullismo non a caso ci sentiamo tutti in dovere o in diritto di giudicare l'altro perché perché non è uguale a noi perché è diverso da noi ma in fondo chi è che stabilisce la diversità siamo sempre noi quindi ti ripeto io non mi sento di dare consigli mi sento semplicemente di dire di tentare di riviverci un pochino come persone perché secondo me in questo momento ci stiamo vivendo tutti poco come persone e come ho detto poco fa la pandemia non ci ha aiutato in tutto questo perché ha aumentato i collegamenti lo stare in in continuo collegamento con il telefono con i computer quindi da un lato ci ha portato a viverci un po' di più la famiglia però dall'altra abbiamo passato giornate e chi per lavoro chi per scuola davanti ad una realtà che realmente è virtuale e forse anche questo non ci ha aiutato tant'è che in questo periodo c'è stato un aumento esponenziale non solo appunto delle dipendenze dipendenze soprattutto nuove dipendenze da internet da gioco d'azzardo chiamiamolo gioco patologico online c'è stato un aumento di episodi di bullismo di cyberbullismo non a caso perché abbiamo trascorso più tempo davanti ad alcune realtà credo che un altro elemento importante sia la condivisione e poi io credo una cosa che un genitore quando vede un figlio io credo che un genitore sia la persona più importante per un figlio essendo la persona più importante è quella che forse probabilmente lo conosce meglio molto spesso magari rifiuta non vuole vedere che magari il figlio non sta bene ma io sono sicura che un genitore riesce a percepire che c'è qualcosa che non va in quel momento nel figlio perciò dico non serve essere oppressivi e farsi dire che cosa si ama tentare di costruire una persona che sia la pari tentare di parlare di comunicare di tendere la mano e di far capire ai propri figli che la vita è anche altro la vita non è soltanto questo la vita è anche altro la vita è passione la vita è scommettere su se stessi sulle proprie risorse e credo che tutto questo sia importante per anche per andare a capire che fondamentalmente il tendere la mano ad un figlio o il chiedere aiuto ad un genitore come dicevi tu prima non debba accadere soltanto nel momento in cui sia troppo tardi imparare a chiedere aiuto un attimo prima perché chiedere aiuto ricordiamoci sempre che non è mai assolutamente un segno di debolezza che spesso viene visto e vissuto come un segno di debolezza e realmente non è così il chiedere aiuto credo che sia una delle più grandi forme di coraggio che un essere umano possa possa mettere in atto Maria ci potrebbe essere proprio dietro queste tue parole perché fanno ultimamente riflettere un genitore un parente che vorrebbe aiutare ma non sa come fare potrebbe aver paura anche di peggiorare le situazioni che potrebbe essere una moglie una compagna o un compagno o un marito o un figlio o un genitore anziano dice adesso vorrei aiutarlo ho capito c'è qualcosa che non va ma come faccio allora cosa consiglio andare in centro specializzato e se sì dove come fare a contattarlo perché non sempre le persone suonano a un campanello e chiamano psicologo per esempio o un centro non sono avvezzi le persone normalmente a dialogare con queste professioni di aiuto ma quando ci si ritrovano si prende l'abitudine ma la prima volta diventa difficile e allora cosa consigli come comportamento come atteggiamento di qualcuno che vuole aiutare qualcun altro ma non sa dove iniziare e cosa fare guarda sul nostro territorio sul territorio italiano anche in Umbria comunque ci sono numerosi professionisti e centri specializzati in questo che addirittura fanno chiamiamo pronta emergenza ad esempio pronto intervento rispetto ad alcune situazioni per esempio la comunità incontro fa una di queste cose importanti e credo che molte realtà siano attrezzate per questo una delle cose che fa è la promozione e quando fa promozione e prevenzione va in strada la comunità incontro con le unità di strada e nei luoghi di maggior sensibilità di maggior rischio e lì ci sono gli operatori della comunità ci siamo noi che siamo pronti anche a dare informazioni ai genitori ai parenti o ragazzi in difficoltà perché no anche dare pronta accoglienza se necessario come noi ci sono tante altre realtà che possono indirizzare ovvio che non possiamo andare a generalizzare cioè non c'è diciamo un valemecum non c'è un protocollo vero e proprio nel senso abbiamo bisogno di sapere di comprendere qual è la situazione perché ogni vita ogni storia di vita è diversa dall'altra quindi non possiamo utilizzare un approccio unanime per ogni persona che magari ha bisogno di aiuto perché ogni persona ha appunto una propria storia di vita una propria emotività una propria sensibilità quindi non possiamo essere così predenziosi nel dire ok dobbiamo fare tutti così io so solo che su tutto il territorio nazionale ci sono realtà importanti come quella umbra della comunità incontro che forse è una delle più grandi delle più importanti ma come tante altre realtà che offrono questa tipologia di servizi quindi ripeto che sono sia in strada con le proprie unità e sia offrono dei colloqui dei colloqui privati con persone che gratuitamente con persone che richiedono aiuto per i propri figli per se stessi per un nipote quindi devo dire che ci sono numerose realtà sui territori che si occupano di chiamiamolo pronto intervento in un certo senso interventi che possano andare un pochino a compensare magari una situazione almeno temporaneamente e poi pian piano cercando di studiare un protocollo un intervento specifico per quella persona per cercare di aiutarla però ti ripeto non possiamo poi andare a parlare tant'è che ad oggi si parla in tutte le strutture un po' a tutti i campi si parla di progetto individualizzato proprio per questo motivo perché non possiamo basarci sì è ovvio ci sono i protocolli internazionali però è ovvio che i protocolli internazionali rispetto ad alcune situazioni vanno adattate alle storie di vita di ognuno di noi ognuno di noi ha il proprio vissuto senza dubbio Francesca allora grazie per questa chiacchierata perché ci hai aperto veramente delle porte ci hai fatto capire in parte che cos'è il tuo lavoro e quali sono le emozioni e le sensazioni che vivi ogni giorno prima di salutarci vuoi lasciare con un messaggio questa questa nostra intervista questo nostro incontro radiofonico chi ci sta ascoltando ovviamente ma rispetto un pochino ai temi che abbiamo toccato io mi sento soltanto di dire una cosa perché io sinceramente l'ha ripeto tutti i giorni ad oggi dobbiamo non è facile perché ci troviamo in una società che che va molto veloce non non riusciamo così tanto spesso a fermarci e a stare come si dice spesso nel momento presente nel qui e ora dovremmo secondo me iniziare un pochino a ridare un senso un significato anche alle piccole cose perché credo che tante situazioni nella nostra vita come la pandemia che purtroppo insomma ancora è in essere fondamentalmente ci ha insegnato che da un momento all'altro possiamo essere privati di qualcosa quindi io credo che sia importante per ognuno di noi ridare un senso un significato a ciò che realmente desidera a ciò che realmente vuole e soprattutto ridare un senso alle piccole cose alle emozioni ai contatti ai contatti familiari alle relazioni tentare di ridare a tutto questo quella genuinità che probabilmente potrebbe ridarci quella spinta per poter tornare ad una ad una vita un po' meno frenetica ad una vita un po' meno fatta di pretese richieste stress frustrazione cerchiamo di di stringerci un po' di più tra di noi cerchiamo di essere un po' più di volerci bene di voler bene alle persone che ci sono intorno perché credo che le deprivazioni a cui siamo stati sottoposti negli ultimi tempi debbano ti ripeto averci insegnato qualcosa e credo che questo sia una delle cose che mi sento di dire cercare di tornare a dare un senso un significato a quello che anche le piccole cose che ci ruotano attorno anche un semplice abbraccio alla nostra mamma o al nostro papà a un fratello a un parente o chi o chi ci sta vicino o chi ci è stato vicino mi sento di dire soltanto questo se dire soltanto questo non è soltanto è tanta roba quello che hai detto perché un abbraccio magari chi non ha più un papà o una mamma ovviamente lo può fare solamente dal punto di vista virtuale affettivo ma chi ha ancora dei parenti o comunque dei cari intorno a sé lo faccia anche semplicemente con un amico o con un'amica a volte è sufficiente quindi grazie di questo invito appunto Francesca che accogliamo con veramente con tanta con tanto sentimento con tanta emozione e perché ci sta ascoltando che avesse un problema di dipendenza di qualsiasi natura di qualsiasi genere si faccia aiutare vada in un centro specializzato ne parli con qualcuno dei propri cari che si può fidare in modo da trovare un aiuto e poi giustamente questa persona che chiede aiuto non va giudicata ma va sostenuta e va accompagnata in un cammino di di crescita di ripresa di speranza quindi veramente è un messaggio potente forte quello che ci hai dato Francesca che accogliamo veramente dal punto di vista affettivo ti abbracciamo intensamente per tutto quello che fai tutti i giorni grazie grazie a te grazie bene gentili amiche e amici che ci seguite da casa un caro saluto dal vostro Marco Pareti per About Umbria per About Umbria ed RTN Radio con noi abbiamo avuto la dottoressa Francesca Valentini psicologa psicoterapeuta che ci ha raccontato uno spaccato della sua vita e della sua professione e che ci ha fatto avere tante emozioni e tante sensazioni e credo anche qualcuno che ci ha ascoltato anche qualche lacrima ma soprattutto spero che faccia riflettere qualcuno perché l'aiuto non si trova dietro un angolo si può trovare anche dietro un angolo come ha fatto quel ragazzo con Don Pierino e viceversa ma a volte bisogna farsi aiutare da qualcuno che ci è vicino un caro che ci ha fatto Grazie a tutti.